Il livello di tecnico si alza notevolmente, giochiamo contro una delle principali, una squadra più forte di questo girone che dopo una partenza un po' così a rallentatore adesso ha trovato il sistema giusto, una rosa importantissima per la categoria ma come tante squadre del resto di questo girone. C'è un'altra Toscana, questa volta di pasta ben differente rispetto al tutto cuoio per il piacenza di Mr. Franzini che può però presentarsi alla sfida con il Siena di domenica prossima forte di una rosa interamente a disposizione e che può offrire così al tecnico di Vernasca ampia possibilità di scelta anche se pare scontata la riproposizione dell'undici ormai divenuto tipo nei match esterni con l'inserimento del più difensivo Sciacca rispetto a Di Cecco con Alessandro Castellana che però freme per riprendersi il posto da titolare abbandonato ad inizio campionato a causa infortunio. Non c'è il rischio che gli avversari ora conoscano troppo bene questo piacenza? Ma sicuramente ci conosceranno bene, non ci snomberanno ma credo che non l'abbiamo mai fatto non ho mai visto squadre che magari ci hanno sottovalutato o ci hanno preso sotto gamba credo che in questo girone, in questo campionato sia difficile trovare sanno benissimo che puoi perdere da tutte le squadre. Nel Siena sarà la coppia avanzata Marotta-Mendicino il pericolo numero uno dal quale guardarsi con mister Colella che può schierare anche l'ex Sampdoria Marius Stanchevicius Bianconeri in netta ripresa dopo un avvio di stagione complicato i problemi paiono ora alle spalle anche se trovarsi di fronte a questo piacenza non può certo rappresentare passeggiata di salute nemmeno per una compagine allestita con il chiaro intento di vivere un torneo di premissimo piano. Cosa servirebbe a questo piacenza per inserirsi nel gruppo delle top del Girona? A questo piacenza deve proseguire con questa voglia, con questa determinazione, cattiveria qualità nelle giocate che ha dimostrato in queste prime nove giornate credo che se va avanti così ce la possiamo intanto giocare con tutta poi sapere dove arriveremo diventa difficile diventano altre questioni, infortuni e tante altre variabili che non possiamo sapere adesso. Sfoderà invece il più classico dei dribbling dialettici Mr. Franzini quando gli chiediamo opinione circa la posizione della sua ex squadra. Propriacenza terz'ultimo? No, ma il motivo è quello che dicevo prima, equilibrio incredibile la dimostrazione del tutto cuoio domenica che veniva da quattro risultati, tre sconfitte e un pareggio però a noi ci ha reso la vita durissima. È un campionato così, Racing Roma, Lupa Roma, si perde da tutti e si può vincere contro tutti. Forse l'Alessandria è esclusa.